Ciao, sono Arianna e oggi vi porterò con me in una giornata di lavoro a Minsight. Dopo una leggera colazione e una sistemata veloce, eccomi pronta per andare al lavoro. Per raggiungere l'ufficio prendo il treno, quindi dopo un tratto di strada in macchina, eccomi arrivata alla stazione. Dopo essere scesa a termini e aver preso la metro, sono finalmente arrivata in ufficio. Oggi parteciperò all'iniziativa Sio per un giorno, in cui affiancherò l'amministratore delegato per l'intera giornata. Come primo punto all'ordine del giorno, abbiamo impatto. Subito dopo ci aspetta la riunione del comitato direzionale Minsight Future Board. Finita la riunione, siamo pronti per un bel pranzo tutti insieme. Durante il pomeriggio ho discusso con l'amministratore delegato di alcune tematiche e ho partecipato, insieme a lui, a varie call e riunioni, conoscendo nuovi colleghi e capendo, sempre di più, il complesso ruolo dell'amministratore delegato. È arrivato il momento di tornare a casa. Alla prossima!